In questo momento è il bisogno di noi e di noi capaci di amare il nuovo Paese. Noi abbiamo il nostro Paese e il nostro fatto come i cittadini resisterà a scelta dell'estito in questi 10 anni di storia dal Movimento Cispertene e resisterà anche in questo momento così ricco di sacrifici, così ricco di atti di eroismo civile che purtroppo anche questa volta non sono appartenenti a questa classe politica. Grazie. Grazie. Senatore, perché le regole sono uguali per tutti, le faccio presente, che voglia di ha, un po' di indicazione. Allora, le faccio presente che lei ha parlato per tanti minuti senza mai essere interrotto a fronte dei 15 minuti del senatore Sardini. Questo perché il senso di loro lato, tu dà un abatto sempre e io lascio parlare sempre di tutti. E non va bene. Allora, le faccio di parlare.